Allora, benvenuta al Centro Paresi. Inizia oggi l'avventura con il Club Italia. Come ti senti e cosa ti aspetti da questo progetto? Allora, devo dire che quando mi è stato proposto appunto di venire al Club Italia sono stata molto onorata di poter far parte di questo progetto anche perché mi dava l'opportunità di poter giocare da titolare contro le migliori squadre d'Italia, contro un campionato di Serie A1. L'anno scorso ho avuto la fortuna di poterlo vedere e di poter giocare con alcuni degli atleti più forti, non solo in italiano ma anche mondiale visto che avevo comunque quattro americani in squadra e anche i risultati sono arrivati, per cui ho visto com'è il livello e sono contenta e spero di poter dare il mio contributo alla squadra quest'anno. Senti, cosa pensi della squadra di quest'anno? È un gruppo molto rinnovato, alcune le conosci bene, altre meno. Che idea ti sei fatta? È un gruppo totalmente nuovo rispetto a quello che era l'anno scorso, le giocatrici su cui ci baseremo ovviamente sono Paola e Alessia Oro che hanno partecipato alle Olimpiadi, però i nuovi innesti sono stati assolutamente fondamentali e appunto ci sono ragazze come Elena Perinelli o comunque altre ragazze che hanno molta esperienza e che quindi potranno in ogni occasione dare il loro contributo. Senti, il centro pavesi l'hai già visto e visitato altre volte, però insomma vivere qua sarà un po' diverso, secondo te può essere una cosa che aiuta? Sicuramente, io qua ho passato molte, tra estati e inverni con i collegiali ho passato molto tempo qua, non ho mai vissuto qua dentro e mi è stato sempre difficile riuscire anche ad uscire, a vedere Milano, questa la trovo anche come un'opportunità per riuscire a visitare una città nuova e magari conoscere persone nuove. Grazie.